ma non basta questo gioco lo ammace non c'è un giugno come giù ah e oggi guardate i video e non mettete mi piace mannaggia marino bella wagyu siamo qui con la parte 6 credo proprio dove eravamo rimasti dove abbiamo lasciati bella wagyu bentornati a vedere sì se non erro è la parte 6 se non erro siamo un po' confusi sì vediamo un po' questa parte 6 cosa ci riserva no molte cose da raccogliere raccogliamo tutto prendiamo tutto 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 non lasciamo niente vediamo qui com'è la situazione che hai fatto qui non c'è niente è qua sulla sinistra sulla sinistra sulla destra ma che è qua to' sta roba ah è un vecchio museo ecco si vediamo se questo specchio museo ha qualcosa di interessante per noi ma come siamo messi a attrezzare tutto il lago ah no cazzo ci mancano i nostri questo è al massimo ma per il resto abbiamo tutto al massimo ah siamo messi bene dobbiamo sperare di non incontrare clicker per ora perché si incontriamo clicker non abbiamo i voltelli oh è capo poco non faccio giove giove l'uno giove l'unico oh ma questo non è il rumore dei clicker yes uomini sono chiamati clicker sono chiamati clickeroni ok vediamo che succede con i clickeruzzi effettivamente si non avendo la lama non possiamo eliminarlo da dietro soltanto ammazzettate e vai con la massa vai ah si bellissi speriamo che non ci ha sentito nessuno si mi hanno sentito invece via via eehhh e qui si fa dura ragazzi la corsa contro il tempo i clickeroni ci corrono dietro e qui non c'è niente via 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 ma abbiamo lasciato credo di averli esaminati eh esaminati seminati questa è l'ansia da clicherone ha eseminato dei segni? mi porta questo oh è l'ipadolo svasinato, sono scostumato apri la porta ma che cazzo gli ha fatto? gli ha fracassato la testa e' lì la ragazza non fa prendere fuoco red io li prenderebbe scattopato non so se conviene oh ma quei che stanno prendendo fuoco ma non sto capendo un cazzo adesso vai vai capiremo capiremo strada ok 1 2 3 e' che cazzo mamma mia e' che c'è tenisi? siete duri a morire mamma sono tantissimi ok uno è morti? tutti? e' ci pensi tu? no, hai fatto una cosa buona però e' bravo e' bravo vabbè non è andata proprio male e male direi ma poteva andare peggio però perchè fa più tumore tutto a posto? solo un po' di fiatone ma se non hai fatto un cazzo che fiatone vuoi avere? ma ma tu che dici? che c'è da sto? tutto bene? che intendi per bene? ma respiri ancora? i rantoli di paura valgono? si valgono ti sta apprezionando eh gioella lei perchè prima la chiamava non la chiamava proprio invece una piccola ora piccola gioellone ti sta entrando nel cuore ti sta adottando eh si guarda adesso prendo questa cosa tes e te la sono in mano te lo rompo in testa non si può? sei fortunata che non si può siamo qui vai guarda come tremava quella trave un simbolo delle luci mi viene da dire le luciole di mellule o whatever beh tutto come te lo aspettavi non ho ancora un verdetto certo che la musica di sotto uno spettacolo che è una musica sotto che spettacolo la musica mi piace tanto e qua lo vedo dubbioso dai giovedo dai forza e coraggio non ancora abbiamo trovato qualche arma diversa dalle pistole che è una cosa che sto proprio pensando da parecchio vorrei proprio trovare un bel ma anche perché ci sono molte slot armi molte slot armi significa molte armi quindi e che cazzo quando è che volete sganciarne un'altra e li togliete davanti ai coglioni un bel fucile a pompa ma pure un mitra eh direi guarda qui ordini delle luci fattugliare l'area della rende su assicurarsi che non mi sia presenza militare prima di spostare la ragazza al prossimo rifugio quindi stanno parlando di ellie ben nutrita in salute l'importanza capitale si è la chiave di tutto è lì a quanto pare bravo un po' di città bello eh anche questo panorama fatto bene diciamo che dall'inizio che troviamo tess e andiamo in quel posto dove poi andiamo a cercare robert non abbiamo più visto la città siamo stati sempre in edifici distrutti pieni di impetti questo è il primo luogo diciamo fuori anche devo dire tranquillo bello con questo paesaggio è un po' di sottofondo questa melma verde acceleriamo un po' per aè l'ioppera dalla scala lei 1 2 1 2 e poi decine di delta sinistro secondo te ma io voglio andare dritto spedito ma uno tutti i morti lì nelle luci e ora che che facciamo? come fa? che stai facendo test? magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare fino a che punto dobbiamo arrivare fino a dove serve arrivare dov'era il loro laboratorio? non l'ha mai detto solo che si trova da qualche parte a ovest che ci facciamo qui? questo non è vero ma è la stessa cosa si dice so che sei meglio di tutto questo ah si? sai che facessimo persone di merda no, siamo sopravvissuti è finita Tess ci abbiamo provato ora andiamo a casa no io non vado da nessuna parte è stato caldo ah la fortuna doveva finire prima o poi che cavolo stai non toccare no 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 che dici tessa infetta no fammi vedere non volevo fammi vedere beviti un po' di sangue di Ellie oh ma che guai mamma mia giusto dammi il braccio questo ha tre settimane mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato cazzo questo è tutto vero Joel devi portare la ragazza da Tommy faceva parte di questa squadra saprà dove andare no 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 quella era la tua abbracciata e io non la porterò avanti lo farai senti dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti questa volta è diverso quindi portala da Tommy merda cazzo chi è ma sono ahhh ecco posso farvi guadagnare tempo ma dovete correre cosa? vorresti che ti lasciassimo qui si non ti lascia sola per no perchè lei è infetta quindi comunque si trasforma si se vuole sacrificare rendimi le cose facili vabbè effettivamente se comunque scappa anche lei poi diventerà un'infetta belli mi spiace io non volevo andasse così datti una mossa adesso questa volta ti renderei veramente utile un po' mi spiace scusa perchè ti metti proprio là avanti? è nasconditi dietro un muro e vabbè posso credere che l'abbiamo fatto e che cosa vuoi fare? l'abbiamo lasciata morire basta volevo morire pure tu rimanere pure tu infatti mi spiace eh certo ci eravamo abituati a alla sua non presenza la sua nulla facenza diciamo che da ora sarà lo stesso esatto però vabbè dai ora sappiamo che la storia continuerà tra elli e lui ah questo si si è andata purtroppo è andata anche lei è andata meglio così che è infetta dai lei non voleva diventare infetta si ma infatti penso anch'io almeno era il suo volere ho visto qualcosa ah men è morto come un essere umano con dignità ah certo non è diventato uno stuccia sangue vai oppure cacciarelle che salto ma che abbiamo qui? che cos'è là? un fucilozzo adesso già si ragiona un po' eh il fucilozzo wow fucile da caccia amici una sedici colpi beh non male non c'era più niente a dirgli no ah sei il proiettile l'avevo avviso per un uno proprio io vabbè tu che dici cosa siamo? sono tre ti anche non usare la molodov fondamentalmente potresti farti questo sono quattro sono quattro ed ecco che cambia la situation ma ti devi fare prima questo eh lì toghti davanti toghti davanti al cazzo si è spazzato pure il cuglio dai e ce la facciamo dai ma quanto cazzo duro andiamo a scontro a fuoco con te scontro a fuoco vabbè ha compensato questi eh è stata breve perfetto questo è andato Alfonso è morto che bella contro la che se c'hai soldi in tasca ebbè pure tu sei morto insieme alfonso sei una bella bar i migliori amici ma tu non abbiamo la bottiglia va bene così qui niente di che mamma quindi io direi di avanzato che dici? ah si non ti trovo più niente vediamo qua che cosa ci dice ma non ho capito che stupidaggine e abbiamo ucciso tanti poliziotti è possibile non ci danno munizioni non ci danno armi non ci danno niente niente è stupido una cosa ma qualche volta ci danno qualcosa qualche volta non ci danno niente qualche volta non ci danno niente ottimo che volevi fare? un colpo a vuoto i fantasmi colpiamo i fantasmi che facciamo? Joel cominciamo da qui ma questa vuole le risposte immediate dobbiamo inventarci qualcosa ma non qui ma proprio di qua perfetto puoi buttare una bottiglia direi no? no 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 ma questo te lo puoi fare solo si l'altro dov'è? ah non lo posso vedere non posso usare l'ascolto attento adesso ma sono di qua questo te lo puoi fare uno due tre vai vabbè quindi anche col casco come sei bello sì è uno semplice diciamo non porta modifiche nell'uccisione ma non è più difficile questo sta venendo di qua o sbaglio? penso di sì no sì è insicuro Ellie ma perché sei sempre attaccato a me perché non ti levi un po' immagino tu abbia scelto il modo finito immagino tu abbia scelto il modo finito si mi ha scoperto sbagliato no forse lui che ha visto l'ultima cosa che ha visto che è stato tu e ho capito però come bah è stato Gioetta oh speriamo che l'altro non ti vedete no perfetto 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 ottimo finora non non ci hanno proprio andiamo a fare anche questo sì ma ci facciamo fare questo bravo fatto sì io ora per esempio non so perché ma correrei verso di lui con la mazza però non la vorrei sprecare perché ci fosse un bravissimo no è vero preghiamo la mazza inusimente uh ma no afferra ma perché non me lo fa ma tu sei un pezzo di c'è un compagnero lì si mi solo lui no non ci ho visto ah ecco oh giuvellone una nuova skill giuvellone no mi dispiace per primo perché ho premuto triangolo vabbè non ho capito eh non so perché non mi ha fatto afferrare vabbè comunque abbiamo sprecato una mazza che mazza che mazza che mazza e che mazza vabbè però la mazza l'ha ammazzato quindi ammazzata quindi è tutta una mazza sì quindi diciamo che ora possiamo proseguire giusto certo vai eh licello vieni un po' con me vieni vai e la scavola non l'hai vista no che c'è qui niente una piastrella ma ora si riesce dalla città di lui oh 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 via via corri solo tu vai vai giuvellone corri 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 dai cazzola giuuu oh spore oh spore non ha messo la macchina giuvellone si si come fai a respirare in mezzo a questa roba non ti stavo detto eh che pensa che la delici bucicio è l'una ha detto che è immune li hai visti? no il posto è vuoto due bandito però si vieni vieni qua bandito si vieni oh eh quando muori merda qui non ci sono non ti preoccupare ci vedrai a breve una e uno e due boh la stessa cosa ah 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 si te l'ha fatta afferrare nooo non lo so ma non lo so perchè eh ogni tanto ha scazzostato per fare le dita forte le dita più rinforzate cavolo good night ma chissio so papà è la special cops si voglio vedere qua se ci può essere qualcosa magari qualcuno ha dimenticato il cellulare nel tren probabile che buonanima ha dimenticato qualcosa qui dentro una bottina d'acqua questi non venivano da anni secondo me ma vediamo qua che cosa abbiamo c'è una porta di usa questa musica no ma non è da qua da qua siamo venuti credo no no non siamo venuti da qua no 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 per niente per niente quindi va bene vediamo di andare qui io non so nuotare ed ecco che rompe i coglioni perchè non sa nuotare e quindi noi andiamo avanti devi imparare ho sentito un un cr tipo clicker provato a simulare il verso del clicker no riuscendo qui però veramente ho sentito un suono da clicker eh allora elli elli dove sei? ecco che elli non risponde elli ma ecco lo vuoi rispondere ma allora vediamo aspetta ho visto qualcosa una scala però non la possiamo prendere mmm la va solo a guardare però qua vedo qualcosa che cosa è questo? ah una piccola zatta esatto una base per portare sicuramente elli evidentemente perchè non sa nuotare perchè altrimenti non serve un cazzo questa base vai elli venditi utile salta su davvero? no perfino no perfino ma perchè stiamo facendo tutto questo allora? davvero ma rimanimo la quindi penso che sia la lengua ad abbassare la scala eh si noi intanto facciamo l'immersione e di chi siate il gioco vuole che noi non possiamo salire sulla zattera no forse siamo un po' pesanti esatto si altrimenti ce l'avrebbe fatto fare elli a chi ce l'ho? ah ce l'ho vai ok gioelone piccola guardatina di qua ma perchè non c'è mai niente? lo sfogo non c'è mai niente mamma che schifo qua ma che è? funghi dappertutto oh ma noi siamo proprio siamo proprio nella casa dei clear penso di sì nella casa dei musti ah finalmente fuori tavolo a masch per giocare che poi lei tutta c'è una maschera non la usa perchè è immune ma gioelone ma sbaglio la stai trattando come se fosse tua figlia ma lei non è tua figlia e beh ormai sono rimasti solo loro c'è un modo devono eh un po' per compagnia un po' per dovere per la speranza ci devono migliorare dai andiamo ecco che subito siamo arrivati in un posto sconosciuto lincoln 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 ah la bella natura sembra incontaminata e io direi che possiamo salutarci anche qui con questa bellissima veduta e io e luis vi rimandiamo io e luis vi rimandiamo al prossimo episodio come sempre è piacere mettete il vi piace se vi piace iscrivetevi se volete vedere contenuti portati da noi dateci una mano insomma aiutateci anche voi si e quindi niente bello adiu alla prossima